adesso perchè ci sono 22 gradi tuta fa comunque troppo umidità e niente volevo farvi questo video oggi perchè mi è arrivato un pacco da sephora e volevo farvi vedere appunto cosa mi è arrivato una piccolenza così però e poi mi sono arrivate altre cose ho acquistato altre cose però farò un altro video a parte e il make up di oggi l'ho realizzato con una palette del make up revolution e questa qui ha molti colori e si chiama creative volume 1 e si chiama e ce ne sono altre 2 3 scusate sempre che è grande e adesso il make up non si vede molto però per la luce però ci sono vari colori ho usato quindi ho usato quelli un po' più chiari perchè è giorno e adesso vi faccio vedere e adesso vi faccio vedere un po' i colori che ci sono dentro questi sono i colori e io praticamente ho usato quelli più chiari ho usato questo qui per sfumare lateralmente poi ho usato questo matt per fare la base e poi sotto ho messo questo sembra scuro però non è scuro per niente infatti vedete non è scuro e poi dentro qui nel lato dell'occhio per fare un po' di luce ho usato questo e niente poi ho messo un po' di matita bianca e mascara e mascara adesso qui non ce l'ho sotto mano io uso quello dell'essence quello con il corsetto verde mi sembra ciglia da principessa o una cosa del genere mi trovo bene e fa le ciglia lunghe a parte che io le ho lunghe non è per dare le acce lunghe e niente e questi sono i colori di questa palette e sabato scorso c'è stato un altro mone di mia sorella e ho usato questo verde perchè vedete le unghie erano verdi così e poi avevo anche un coprispalle in particolare di questo colore era stupenda sono colori abbastanza scriventi anzi molto scriventi e durano anche e mi piace anche tanto il packaging di questa scatoletta di questa palette e rilievo un po' ed è fatto tutto come delle foglie di pavone poi poi come rossetto ho usato questa tinta labbra che non ha una marca non sempre presa dalla Makeup Revolution e non ha una marca e diciamo scusate ho fatto un errore è della Makeup Revolution che è la palette però è acquistata dal sito Pink Panda e questa è della Eclipse ed è una tinta labbra che è quella che ho addosso con questo scovolino scusate se non so dove guardare perchè non sono pratica perchè è la prima volta che faccio video così che si vede il panettone e un'altra cosa è questo colore e dentro nella scatolina c'era anche la matita dello stesso colore e era in offerta però era un colore molto bello adesso in video si vede un po' aranciato però invece dal vivo è molto bello poi ho anche molti illuminanti però in questo caso oggi ho usato questo ombretto dell'Essence come illuminante è molto bello appunto tutto glitterato vedete è molto 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 glitterato non so se non si vede per niente proviamo di qua vediamo se riesco non si vede non si vede si vede meglio da così da vivo si e l'ho usato un po' come illuminante qui qui avevo sotto mano questo e dietro alla tv vedete come una sfondo cascata rilassante rilassante non si vede molto perché ci sono io davanti bene e adesso arriviamo a il video il video praticamente nella scatola che mi è arrivata di Sephora ogni tanto ogni tanto guardo di là perché c'è il gatto il gattino che vede tutti i movimenti che faccio con le mani siccome è vispo e ogni movimento che faccio mi salta addosso sto aspettando un momento all'altro che mi salta addosso allora è arrivato in una scatolina così poi dentro c'è c'è questa cartina questa lana mi sape proteggere un po' la cosa perché non sbattessi di quella mi piace mi piace una cosa di Sephora ti fanno scegliere il colore del pacchetto e mi piace perché ti mandano tutto un altro quindi ho imparato a mettere il colore che mi piace meno così so che mi arriva l'altro che è quello che mi piace molto poi c'è anche questo braccialettino qui preso da AliExpress bellissimo e fa una luce bellissima è scritto a 10925 però non peso è molto bello imitazione della Guess bellissimo mi piace molto poi torniamo sempre al nostro discorso poi dentro c'era anche oltre alla cartina per proteggerlo ma non è solo qui dentro un stantino uno scottolone così dentro c'è dentro c'è sempre il logo della Sephora allora e bene il sacchettino nell'interno e l'interno troviamo allora prima vi mostro i campioncini che mi hanno mandato allora mi hanno mandato questa cartolina di di Ox come si dice non lo so con 15 euro e con 15 euro di sconto però leggete bene sotto c'è se fate 100 euro di spesa potete usufruire di questi 15 euro c'è sempre il trucco sotto insomma diciamo mi sono legata i capelli con una treccia perché appunto fa caldo non lo so e non avevano uno solo no ecco poi c'era questa cartolina con 15 euro di sconto poi adoro questo campioncino di Valentino Born in Roma è favoloso diciamo che ho diciamo che ho fatto l'ordine per questi campioncini perché ne avevo già fatto un altro e mi hanno mandato questi campioncini da scegliere e allora per averli di nuovo gli stessi perché il profumo costa un po' troppo magari a Natale me lo farò regalare e non l'ho rifatto all'ordine è fantastico non lo so sento odore di non so caramelle non lo so adesso potremmo aprire vediamo perché quello precedente non era pieno ma mi sta neanche questo vediamo questa questa sarebbe la boccetta dentro è bellissima e questo è il campioncino eh si non è pienissimo vedete buonissimo favoloso mamma mia buono e a me dispiace sempre usare i campioncini però amo i profumi li uso a volte ho detto due o tre assegni poi altro campioncino adorabile il nuovo di Saint Laurent libero molto 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 buono anche questo e appunto ne ho altri due perché me li hanno mandati però ho approfittato siccome saranno sicuramente i profumi in fuoco adesso per ora mettono questi campioncini di queste due marche quindi ne ho approfittato e questo anche questo all'interno l'altra volta non era pieno questa è la boccetta questa è questa e questo è il campioncino ecco non è pieno neanche questo però diciamo che con una con una spruzzatina che è andata anche adesso ci si sente tantissimo e dura tantissimo tutta la giornata anche il giorno dopo perché anche se non mi lavo le mani e magari me lo vedo nei polsi e si sente sempre è molto buono allora poi l'ordine effettivo che sono traccavolate tanto per prendere e avere i campioncini allora ho preso questa maschera per i pazzi da sotto gli occhi e questi sono alici che è un frutto esotico biocellulose sono due cioè due è una dose che ho provato in realtà sono due patch e proverò magari in settimana poi questa crema crema gel idratante il cocco all'acqua di cocco perché io ho la pelle molto secca se no taccia anche adesso che mi sono lavata mi sono messa la crema ho provato questa l'ho messa a bocca però mi sfoglio qua sopra qui nei lati e a volte anche qui e adesso ho provato anche un fondotinta cover age che non vedo coprire niente della catrice forse ne ho messo anche poco perché ho provato è poco e è giorno anche e comunque è molto piccolo cioè sono 55 ml però vedete che è bassa cioè ce n'è dentro si costa 6,90 euro in offerta online ce n'erano anche in offerta di più era l'ananas il kiwi alla banana ma erano esaurite perché costavano 3,80 euro è una testura molto io cercavo una crema in gel che usavo una volta era proprio un gel odio le creme pesanti quelle che appesantiscono e poi ti fanno come sudare tipo una pellicola le odio proprio e speriamo che questa sia leggera è così la testura di è sempre bianca e è sempre bianca però è molto morbida è molto bianca ha un po' di cocco pazzesco e quando la metti sembra di essere al mare perché io avevo sempre il cocco non le ho assolare il cocco quest'anno purtroppo non sono andata al mare neanche in giù lo amo lo amo il mare vorrei andare a vivere il mare e da me per andare a Jesolo sono un'oretta un'oretta scarsa e però non sono mai 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 andata quest'anno è stato tanto caldo e io non soffro cioè a me piace il mare per andarmi a tuffare anche se non sono utile però quando vado al mare in vacanza o anche di giornata diciamo che più di 3 quarti di tempo lo passo in acqua un profumo buonissimo e niente vedremo nel tempo vedremo nel tempo usandola se vale la pena riacquistarla oppure no ultima cosina un mini una monotose di bagno schiuma più che altro più che altro l'ho presa ancora l'ho presa e non sono nata contemporaneamente perché ce l'ho qui anche in bagno perché oltre ad essere maniaca di profumi personali sono maniaca anche di profumi di casa mi piacciono ci vedo per tutto comunque ho preso questo più che altro per sentire la fragranza adesso sono occhi senza occhiali è scritto in piccolo e questo è questo ve lo dirò non ci vedo niente Pillow of battle non so poi c'erano gli agrumi e tutto però io amo gli agrumi però ho voluto cambiare vediamo che gusto è questo stasera lo provo che profumazione ha più che gusto non devo berlo e niente questo era tutto io spero che comunque la crema l'ho messa anche sulle mani adesso quella più più e nonostante non sia per le mani però restano vellutatissime profumatissime molto buono bene io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto mi era stata tutta la crema sotto sulle unghie spero vi sia piaciuto il video e niente saluto tutti grazie per i nuovi iscritti grazie a quelli che mi seguono e niente grazie anche a quelli che mi chiedono ricambiare l'iscrizione poi si cancellano subito grazie e niente il mondo è bello perché va in piccolo no vabbè questo è tutto vi mando un bacione e buona giornata ciao 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 ciao